esistono due modi per proteggere un latitante il primo è quello classico te lo tieni in casa oppure gli metti a disposizione un alloggio sicuro questo servizio viene offerto in cambio di soldi o quando ci sono affari in comune da salvaguardare il secondo modo meno tradizionale è una specie di favoreggiamento so chi sei ma non mi importa di segnalarti perché tanto non ho fiducia nelle autorità luciano liboni si muove controcorrente rispetto alla polizia e carabinieri che da giorni gli stanno dando la caccia si è perfettamente mimetizzato nel mondo del degrado e dell'emarginazione gravita in un'orbita di barboni persone disagiate e mendicanti che il più delle volte per avere un pasto caldo vestiti più o meno puliti e un tetto temporaneo sopra la testa ricorrono alle strutture della caritas il lupo fa riferimento a questo mondo di invisibili anche perché non altri modi per proteggere la sua fuga e provare a mantenere la distanza sugli inseguitori il copione si ripete si ripete perché lo aveva già fatto in passato da semplice latitante di provincia prima di uccidere un carabiniere condizione che lo ha trasformato in un super ricercato eccoci arrivati all'ultima puntata della miniserie la fuga di liboni il lupo feroce il podcast realizzato per la rubrica alibi con lo straordinario contributo di riccardo lucchini dj ricky l è questo il suo nome d'arte si è occupato della selezione delle musiche che ha prodotto lui stesso del sound design e del montaggio questo quinto episodio contiene le ultimissime ore di vita di luciano liboni un criminale italiano che nell'estate del 2004 ha letteralmente tenuto con il fiato sospeso la democrazia del nostro paese per dieci lunghissimi giorni lo cercavano tutti ma proprio tutti da quella tragica mattina in cui aveva ucciso nelle marche umilitarie dell'arma la cronaca nera sa essere feroce il lupo è stato un assassino spietato il mio nome è enzo berette sono un giornalista tutta italia cerca il lupo andiamo a scoprire dove si trova la sotana il sottobosco di poveri che rappresenta l'ultimo strato di società nella città eterna assicura la clandestinità a luciano liboni centri sociali ponti parchi il lupo è un randaggio il lupo è intelligente consentire alla polizia di ritrovare la moto parcheggiata con cura davanti al viminale è stata solo la sua ultima sfida capisce di poter contare nella capitale su una trama di piccole ma significative complicità da cui ottiene ogni volta ciò di cui ha bisogno un posto per dormire sia esso l'angolo del cortile di un condominio o due metri quadrati in un parco pubblico occupati con lo scatolone abiti per cambiarsi roba quanto meno commessibile da mangiare può diventare pericoloso perfino elemosinare alla caritas e infatti evita finché può per confondere chi gli sta col fiato sul collo dorme in periferia su una panchina di piazza del pigneto al penestino tra le bottiglie vuote di peroni e cartoni di tavernello gomito a gomito con altri senza tetto il ricercato umbro ha un'enorme capacità di mutare volto e di travestirsi e di girovagare di giorno tra la gente senza grandi problemi la città è setacciata a raggera dal centro la periferia liboni è furbo quando va in giro porta sempre occhiali scuri per non farsi riconoscere si mette pure un cerotto sullo zigomo in alto a sinistra per nascondere il neo segno inequivocabile di riconoscimento dall'identikit si ferma a comprare due paia di pantaloni e due magliette una bancarella di cingalesi è abilissimo nel celarsi tra gli altri grazie alle numerose sperimentate tecniche di camuffamento si infila nei locali pubblici usa la toilette per sistemarsi si pulisce velocemente consuma un pasto e taglia la corda senza destare sospetti mai una telefonata una traccia scritta o qualcosa di conducibile al suo rifugio agli altri senza tetto si presenta con un nome falso quando ho chiesto se poteva mettere sul prato ho capito era al lupo aveva visto il suo viso la sua faccia su un metro qualsiasi giornale che trova gratis per strada non ha avuto paura da lui però soltanto nascosto il giornale con la sua foto sotto il mio sedere l'uomo che parla si chiama mohammed è un algerino di 50 anni avvicinato da una giornalista di repubblica quando non è in galera mohammed vive per strada il suo rifugio è un cespuglio di oleandro sotto un grande olmo nel giardino della chiesa di san gregorio al celio liboni ha appena scalato la stradina in salita tra villa celimontana e ruderi di caracalla sotto la scalinata c'è posto per due o tre persone al massimo non di più altri barboni una quindicina sono accampati più su sotto agli alberi oltre l'ultima porta monumentale della villa il lupo si ferma sul prato bivaccare lì vicino c'è una fontanella dove si lava ogni mattina rimane in mutande e si strofina addosso l'acqua fresca che butta il nasone per rasarsi utilizza il beverino in po di schiuma da barba nessuno chiede a quel barbone solitario come si chiama o quale storia porta con sé nessuno dei mendicanti ha voglia di parlare forse perché molti sembrano già sapere chi è e non cercano nove rogne potrebbe essere quello ricercato dalla polizia pensano lo spirito di conservazione suggerisce loro di voltare le spalle dall'altra parte mohammed però va oltre con i sospetti e forse questo lupo armato mi immagino perché nasconde sempre qualche cosa potrebbe avere una pistola però io non ho visto questa pistola però mi immagino così perché sono carcerato lo sapete che il gente carcerati ci sono tante cose imparano dentro queste carceri diversamente da quasi tutti gli altri l'ultimo arrivato ha pure un telefono cellulare chiama richiama sembra cercare qualcosa attraverso qualcuno ma tutti i suoi interlocutori appena capiscono che è lui in linea gli chiudono il telefono in faccia l'espressione facciale del lupo si fa sempre più corrucciata liboni cerca appoggi nella malavita che però ormai evidente ha deciso di tagliare i ponti con lui lo hanno mollato parenti amici disposti ad aiutarlo non ce ne sono nessuno vuol più sapere niente di lui liboni è riuscito ancora una volta a sottrarsi alla cattura sono centinaia le segnalazioni secondo gli inquirenti il killer potrebbe trovarsi nel lazio ma starebbe pensando di lasciare l'italia il pensiero del lupo infatti torna la sua donna una cingalese di 34 anni che vive nello sri lanka il paese dove ha fatto investimenti immobiliari e che vorrebbe eleggere a suo buon retiro per il futuro il sogno sarebbe sconfinare e raggiungere l'isola poi una volta lì il modo di finanziare attività legali coi soldi delle rapine si trova arrivare nello sri lanka però significherebbe essere riusciti a beffare la giustizia italiana meglio starsene ancora un po sotto coperta quello tra il colosseo il palatino è un posto strategico la fermata della metropolitana del circo massimo è a 50 metri dal parco che non è mai affollato capitano ogni tanto qualche coppia di sposi per le foto di nozze qualche suora davanti al cancello del convento delle suori missionari della carità non sono pochi quelli che si mettono in fila per un piatto di minestra e lui mai andate della sora non lo so per quale motivo però comunque aveva un po di soldi e lupo mi dai questa solda a noi per comprare il cibo o robe di mangiare tipo il pane formaggio prosciutto biscotti pira e lupo si scrive questa lista da un foglietto della carta medaglie fuori della carta a noi per comprare questa spesa dal supermercato qualsiasi supermercato con questa modo noi usciamo un po di soldi anche a noi facciamo un po di business praticamente il lupo ormai frequenta solo vagabondi e persone che vivono ai margini come lui nessuna autentica complicità aiuti marginali questo sì che non implicano un vero e proprio favoreggiamento ma sono fondamentali per farlo restare introvato il super latitante in continuo movimento cammina ancora per le strade del centro e cerca ancora di depistare chi da giorni prova in tutti i modi a mandarlo in prigione all'imbrunire torna a dormire la solita panchina per raggiungere di nuovo il centro l'indomani di buon mattino non ha più una meta i punti di riferimento sono sempre meno molte volte la noia prende il sopravvento le carte da scala 40 che aveva pitturato per qualche solitario sono sotto sequestro abbandonate anch'esse nel bauletto della motocicletta la sparatoria con la polizia in piazza della repubblica ha reso il clima se possibile ancor più irrespirabile luciano liboni lo percepisce la sua foto è sulle prime pagine di tutti i giornali e le cabine telefoniche e i pali della luce e alle televisioni nei bar il lupo è un'anima persa si è rasato a zero ha tagliato il pizzetto è fiaccato adesso ha paura esce sempre meno dalla tana il capolinea non è lontano venerdì pomeriggio ora del tramonto il sole arancione di roma sullo sfondo alcune ragazze fanno jogging lungo il prato che costeggia il viale delle terme di caracalla mohammed si attacca al cartone di vino quando il lupo si distende sulla juola vicino all'omless algerino se ha messo un po parlare con noi di la tassa del governo era lui contro berlusconi non è piaciuto non mi ha svegliato per quale il motivo forse a lui di sinistra io bevevo lui parlava anche nel calcio talmente che lui non capisce niente di calcio forse per svegliare qualche o qualsiasi cosa con noi alla fine solo alla fine mi ha detto se non trapola io non niente da perdere io non è risposto dopo di poco più tardi siamo andata a dormire e il giorno dopo ha visto mentre che sta lontanato roma 31 luglio 2004 sono le 11 e 30 di un sabato particolarmente affoso il centro è semivuoto i romani sono in ferie e quelli che non sono ancora in ferie sono già partiti per raggiungere il mare di ostia di fregiene o di ladispoli per il weekend luciano liboni cammina sul marciapiedi in viale petroselli a poca distanza dalla bocca della verità chissà forse l'uomo più ricercato d'italia incontrato deve incontrare qualcuno che può assicurargli protezione o impunità la zona è affollata perché stasera al colosseo c'è il concerto di simon e garfunkel il balordo veste un apolo jeans blu stinti 33 mila euro frutto di rapine nello zaino nero sulla schiena diversi occhiali di foggia diversa da cambiare a seconda delle esigenze una carta d'identità e la patente intestata a franco franchini di ancona spera di confondersi tra la gente il lupo ancora non sa che invece la sua vita è ormai arrivata all'epilogo una donna di 50 anni con i capelli biondi raccolti sopra la nuca lo ha vista e raggiunge due vigili urbani in motocicletta guardate quel tipo che brutta faccia che ha sono sicura è quello che ha ammazzato il carabiniere i due vigili giorgio de angelis e ivan bianco si avvicinano di qualche metro e notano il grosso neo sullo zigomo sinistro potrebbe essere quello di cui si è parlato sui giornali le false segnalazioni sono state tante in questi giorni ma la somiglianza di quell'uomo sospetto con la foto segnaletica che hanno in tasca è impressionante vorrebbero avvicinarsi ancora e chiedergli documenti ma qualcosa li ferma giovani disarmati i due cominciano a pedinare il killer che imbocca via dei cerchi e si infila nel rettangolone del circo massimo la strada a senso unico per seguire il sospettato i motociclisti dovrebbero percorrere un tratto contro mano e a quel punto liboni capirebbe di essere stato avvistato decidono così di prendere il vialone parallelo che lambisce il monumento e continuano a tenerlo d'occhio avvisano con la radio la sala operativa della municipale la lupa a piazzale ugolo malfa i vigili si trovano davanti un posto di controllo dei carabinieri con due motociclisti del nucleo radiomobile le marmitte delle loro bmw 8 e 50 sono ancora calde perché i militari hanno appena ascoltato il capo del governo silvio berlusconi da via del plebiscito a palazzo chigi il brigadiere angelo bellucci e il militare scelto alessandro palmas si affiancano ai vigili poche parole più che altro silenziosi cenni di intesa da questo momento quattro moto e due coppie di divise bianche e celesti seguono a distanza il lupo che ancora ignaro di tutto liboni continua a camminare arriva in viale a ventino e svolta a destra verso piazza di porta capena le due pattuglie di motociclisti stanno per venire fuori allo scoperto percorrono un breve tratto in contromano sorpassano il sospettato e accostano al marciapiedi per chiudere le vie d'uscita il lupo adesso intrappola ma il prologo di un altro inferno di fuoco il capo pattuglia angelo bellucci è un marcantonio di un metro e 91 sposato padre di tre figli l'ultima nata solo 40 giorni in 26 anni di servizio nell'arma si è già imbattuto in un altro paio di sparatorie il brigadiere attira l'attenzione del killer che cammina chiamandolo per nome luciano luciano sono le parole che pronuncia quando liboni l'oltrepassa il lupo volta la testa e continua a camminare accelera il passo pianta la mano sul calcio del revolver finché si gira all'improvviso di scatto e spara il proiettile vaga qualche centimetro dai carabinieri il carabiniere scelto palmas scaraventa terra la motocicletta e ci si ripara dietro mentre risponde al fuoco spara anche bellucci sull'asfalto del marciapiedi si sentono tintinnari bossoli calibro 9 liboni riesce a premere il grilletto altre due volte scarica quasi tutto il tamburo del revolver calibro 38 contro i militari poi si mette a correre per di fiato verso il circo massimo dove si trova a circa 150 metri di distanza un chiosco che vende cocomeri e meloni una famiglia di turisti francesi in vacanza si sta rinfrescando un tavolino del chiosco con un po di frutta fresca e una bottiglia di minerali ghiacciata jean louis serge manager di 44 anni la moglie casalinga e jean pierret e i loro tre figli di 10 12 e 17 anni avevano deciso di fare una breve sosta per riposarsi quando si ritrovano all'improvviso protagonisti di uno spaventoso film d'azione l'assassino piomba in mezzo ai turisti stranieri come una furia li prende in ostaggio gli altri clienti i passanti si gettano bocconi o si rifugiano dietro alle auto in sosta liboni afferra la casalinga francese per un braccio la cintura e le punta la canna della pistola alla testa i due carabinieri arrivano di corsa e si riparano dietro al tronco di due grossi platani il lupo urla senza abbassare il revolver palmas avanza piano piano tra il coraggio e l'incoscienza arrenditi luciano non hai scampo non ti vogliamo uccidere butta la pistola dai non hai scelta liboni gli occhi bianchi grandi risponde con un ringhio tanto sono morto la ammazzo lasciate vanna se non vi ammazzo tutti se non morto che cammina il giovane carabiniere si sforza di mantenere i nervi saldi insiste stai calmo non vogliamo farti del male adesso io poggio la pistola per terra e fai lo stesso anche tu il figlio più piccolo della donna piange vorrebbe avvicinarsi alla madre sequestrata ma il padre lo blocca prendendolo in braccio per tutti è uno spavento tremendo il giovane militare palmas è ancora lì e si china sulle ginocchia fingendo di voler deporre la beretta quel bastardo del lupo però spara ancora è in preda alla confusione totale si capisce perché manca incredibilmente il bersaglio a un paio di metri di distanza il capo pattuglia bellucci ha azionato l'allarme della motocicletta per chiedere rinforzi un movimento che disorienta il killer adesso gli gira intorno per prenderlo alle spalle lo tiene sotto mira con il braccio teso gli sta quasi per arrivare addosso ma il lupo si volta e si accorge del nuovo avversario è accerchiato spintona la donna che cade a terra singhiozzando punta la rivoltella verso bellucci e tira il grilletto il proiettile si perde nel vuoto nella fase più concitata dell'agguato però si dimentica di alessandro palmas il carabiniare che qualche istante prima aveva provato a farlo ragionare adesso spicca un balzo placca il killer e gli spara la nuca a bruciapelo boom il lupo crolla a terra e a canale mi pare che lì c'era un vigile umbano ha segnalato qualcosa a certo punto ho sentito due tre volte proprio che era il che ho scritto c'era una persona che ha chiappato due ragazze una veniva d'acollo e indireggiava e indireggiava così a certo punto e forse dell'altro che stava qui che è colpito questo qui mi ha aiuto da dietro e da chi è? Un zampillo di sangue scuro e denso esce dal cranio della belva ferita, insieme a parti di materia cerebrale. Liboni è gravemente ferito alla testa, ma ancora non si arrende. Cerca di agguantare la pistola, la sua 357 Magnum renato gamba, con la canna da 3 pollici e la matricola brasa. È la stessa arma usata per uccidere l'appuntato Alessandro Giorgioni nelle Marche e per seminare il panico durante la sparatoria di una settimana fa nel centro di Roma. Bellucci però è più veloce e sferra un calcio deciso contro l'arma per allontanarla dal raggio dell'assassino. Quindi allarga le braccia e mette in sicurezza la famiglia di francesi terrorizzati. Palmas si butta sopra il corpo del luogo, lo blocca a terra e gli stringe le manette ai polsi. Decide di autoradio dell'arma, polizia, elicotteri. Il circo massimo si riempie di sirene. Il tutto dura un minuto, forse un minuto e mezzo. Le manette ai polsi, un proiettile nel cervello. Luciano Liboni trova ancora la forza di tirare i calci. La vita però lo sta abbandonando velocemente. Da questo momento la corsa del bandito in fuga è ufficialmente finita. Il corpo è affaticato. Rallenta anche il battito cardiaco. La vita del lupo è arrivata all'ultima fermata. Il criminale perde altro sangue. L'eco di un'ambulanza. Viene caricato su una lettiga, destinazione ospedale di San Giovanni. L'ultimo miglio. Luciano Liboni si rimena ancora. Si sforza di rivincolarsi. I muscoli come intorpiditi. Con una pallottola nel cranio trapassato tenta per l'ennesima volta di liberarsi pur essendo ammanettato. È sdraiato sul lettino dell'ambulanza quando carica una gamba al petto e sferra un calcio in faccia al baregliere che prova a tenerlo fermo. L'ultimo gesto inutile e disperato di un uomo solo in guerra contro il mondo. Viene immobilizzato con le cinghie. I carabinieri di Roma hanno catturato il latitante Luciano Liboni, preso al circo massimo dopo un conflitto a fuoco. Il lupo, questo il suo soprannome, era ricercato in tutta Italia da dieci giorni. Liboni è rimasto ferito nel corso della sparatoria e sta per essere trasportato in ospedale. From ABC News, this is World News This Morning. Now from our world headquarters in New York, here's David Muir. And now we go to Italy. The most wanted man in the country was finally captured just a few hours ago. Luciano Liboni has been on the run since July 22nd after he killed a policeman in the small town of Nova Feltria. For 10 days, Italy's top investigators had scoured the country for the killer in an unprecedented manhunt. Luciano Liboni was finally caught after a shootout and is now in a hospital in Rome in critical condition. ricoverato all'ospedale San Giovanni in gravissime condizioni. Sono le 13.30 quando il lupo entra in sala operatoria. È in coma cerebrale, nel reparto di terapia intensiva. Le ferite sono mortali. Ha tenuto in scacco gli inseguitori per 10 lunghi giorni. Non ha più speranze. Il cuore di Luciano Liboni smette di battere sotto i ferri alle 14.50. La corsa è finita. Una notizia dell'ultima ora. Apprendiamo in questo momento che la tragica e lunga fuga del lupo è finita. Liboni è morto, ci informa l'agenzia ANSA. Luciano Liboni è morto all'ospedale San Giovanni durante l'intervento chirurgico per estrarre un proiettile che lo aveva colpito alla testa. Fuori dalla caserma di Nova Feltria torna a sventolare la bandiera a tutt'asta. Dal 22 luglio, quando Giorgione era stato trucidato dal lupo con due colpi di pistola, il tricolore era rimasto a mezz'asta in segno di lutto. Tra le prime persone a recarsi in caserma per accogliere la notizia ufficiale dell'uccisione di Liboni, la vedova dell'appuntato dei Carabinieri, Simona Cola. Quanto ho saputo che era ferito, ancora non è che ero tranquilla. Che comunque una persona così non deve solo essere ferita, insomma, deve proprio sparire dalla circolazione in modo che possiamo stare tranquilli un po' tutti, no? Quando mi hanno detto che era morto ero più, non dico sollevata perché tanto nessuno mi evitava mio marito, nessuno può cambiare mia situazione, però almeno so che non può fare niente, quindi anche i colleghi la vivranno no? Insomma, questi ragazzi sono stati bravi perché si vuole un bel coraggio, si vuole un bel coraggio affrontare una cosa così già sai a cosa va incontro, quindi ce l'hanno messo tutta e penso che siano stati eroi loro. Eroi suo marito, eroi i suoi colleghi. I suoi colleghi, sì. Luciano Liboni era ricercato da due anni per un'impressionante lista di delitti e fatti di sangue. Una vita, la sua, contrassegnata dal crimine dopo un'infanzia di dolore e un'adolescenza difficile. Perfido criminale, protagonista assoluto di una trama avvincente quanto maledetta. La caccia al lupo del 2004 è la prima caccia all'uomo seguita minuto per minuto dai giornali e dalle televisioni. C'era stata quella di Renato Vallanzasca, in epoche più recenti l'altra, impressionante, di Igor il Russo, con tecniche investigative diverse e migliori. Quando tutti cercavano Luciano Liboni, però, era proprio un altro mondo. Non esistevano neppure i social network. La minaccia andava annientata. Aveva ucciso a sangue freddo un carabiniere, un fratello, uno di loro, uno dei loro. Stava per farlo di nuovo. La bomba andava disinnescata. L'assassino che dormiva nelle grotte, l'uomo nero che aveva rotto con la famiglia, gli amici e l'amore. La belva senza pietà. Meritava soltanto l'ergastolo. Per dieci lunghi giorni, il super ricercato di Montefalco è stato catapultato al centro di un racconto spaventoso e appassionante. Coinvolgente, perché il lupo non rispettava nessuna regola, però conosceva quella fondamentale. Spara sempre per primo. La trama è mostruosa. Un balordo che ti punta la pistola alla tempia e apre il fuoco contro le forze dell'ordine non si vorrebbe mai incontrare neppure negli incubi peggiori. Il malvivente non aveva mai risolto i suoi problemi con la giustizia e cercava ancora di scappare da quella stessa giustizia che prima, forse un po' timidamente, aveva provato a mettergli bastoni tra le ruote. Cerca il sangue. Lo trova. Quella criminale ha la sua dimensione. L'unica conosciuta da questo bandito rozzo che aveva trascorso una vita intera tra le sbarre e i cancelli. Non c'è più scampo. Dentro o fuori. Quando rischia di trascorrere il resto della sua esistenza in carcere Luciano Liboni lancia la monetina. Eterno destino di fuggiasco o di cadavere. Deciso fino all'ultimo comunque a non farsi prendere. Costi quel che costi. Porta avanti l'ultimo affronto con la pistola in pugno. Lo hanno lasciato morto. Alibi.